salve ciao benvenuta si hai preso appuntamento? ok vediamo vediamo subito allora allora vediamo oggi oggi si no era un segnalibro che in teoria dovrei usarlo ecco qua allora perfetto ricordami il tuo nome si che bel nome allora perfetto orario dimmi un po' sei allergica a qualcosa? no però sei già venuta? sì mi ricordo ok dimmi qua c'è scritto taglio franza ok allora vediamo un po' questa allora amici inizio un attimo le mani vediamo un po' le avevi messi di qua ok beh direi che è lunga sì è lunghetta quindi le andiamo giustamente a tagliare ma la vuoi un po' scalata così assi paretto oppure la vuoi dritta la vuoi tipo così ok tipo così piena un po' più diradata non lo sai anche tu benissimo allora io ti direi iniziare prima piano piano a tagliare ok e quindi poi vediamo insomma più o meno la struttura io te la taglio in modo piano piano andiamo a gradi così tu mi puoi dire come come la preferisci ok allora prima cosa ti metto asciugamano allora adesso tu mi devi ecco di qua aggiustiamo la portata della cosa ti metto l'asciugamano ok allora perfetto l'asciugamano ora ti vado a pettinare un po' i capelli è il tuo colore naturale si si vede ha delle sfumature molto belle beh non hai mai fatto ancora tinte sei fortunata che bello sono un po' sfibratini eh però però ok si ci sono sono qui allora vediamo un po' allora prima cosa è di bagnare un pochino ok ok allora te li porto qui sopra così non ti bagno la faccia se te li dico ok ok vediamo un po' come vuoi farli si vuoi fare scalati quindi intanto inizio a tagliare un pochino ok allora dividiamo questi ok perfetto ok tutto qui ok qui 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 Grazie a tutti 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 Perfetto Ok Grazie a tutti Ok Mettiamo Grazie a tutti Ok Ok Perfetto Grazie a tutti Ok Un bacio